Quando è scoppiato questa vicenda io avevo avuto per due giorni consecutivi le truppe televisive delle più grosse testate nazionali postate sotto casa ad aspettare che uscisse la famiglia piuttosto che per riprenderli avere qualche immagine da scaraventare nelle televisioni quindi insomma è stata una vicenda piuttosto pesante. Dopo essere stato assolto nel processo penale con la rinuncia alla prescrizione l'ex arbitro internazionale Paolo Bertini tirato in ballo nel ciclone Calciopoli è stato l'unico assolto anche dalla Corte dei Conti per presunto danno all'immagine dell'Associazione Italiana Arbitri. Dopo 11 anni finisce dunque un incubo che però non potrà restituire a Bertini la brillante carriera di fischietto che si stava costruendo. C'è stata ancora una volta soddisfazione per questo tipo di sentenza che è uscita perché appunto è stata annullata la sentenza di primo grado con la quale la Corte dei Conti l'aveva a suo tempo condannato al pagamento di una somma pari a 50.000 euro per danno all'immagine arrecato alla federazione e al CONI e quindi è stata annullata questa sentenza e è stato chiamiamolo in modo non tecnico assolto da questa cosa addirittura con riconoscimento di spese giudiziali a suo favore. Perché l'arbitro viene considerato come sorta di funzionario pubblico nel senso svolge un pubblico servizio? Sì, sempre in modo non tecnico perché la gente a casa capisca è un po' così, è come se il dipendente di un ente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni ha recasso un danno alla pubblica amministrazione per la quale lavora e quindi danno in questo caso all'immagine era partito anche come danno di servizio e quindi è chiamato poi a risarcire questo tipo di danno. Poi partiranno anche tutta una serie di tentativi di risarcimento nei confronti di chi ha generato o comunque quantomeno non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Io mi sono sempre, questo è stato uno dei principi che abbiamo intavolato, mi sono sempre difeso da arbitro, io sono sempre stato un arbitro, sono andato in questi processi a difendermi e difendevo allo stesso momento la famiglia arbitrale, quella alla quale sono appartenuto, sono appartenuto per 31 anni e anche nel rispetto della memoria del mio babbo che insomma in questa famiglia ci ha vissuto, ci ha creduto e mi è dispiaciuto che nel momento in cui io mi difendevo appunto come arbitro rispettando le regole e come mi hanno sempre insegnato l'associazione ritenesse giusto e opportuno ritirarmi la tessera, questo è stato diciamo l'elemento di estremo disturbo, quindi parlare adesso di un rinserimento all'interno dell'AIA mi sembrerebbe insomma abbastanza forzato. Ti ha chiesto scusa qualcuno dall'ambiente del calcio dopo le assoluzioni? Ad oggi no, aspetto fiducioso.